Quindi che antropologia nuova, che cambiamento dell'antropologia ci propone emerge da queste nuove tecnologie? Ma secondo me sicuramente una trasformazione, qui ritorno a una trasformazione enorme di che cos'è il nostro rapporto col corpo, il nostro rapporto con l'identità, il nostro rapporto con la recitazione, il nostro rapporto con l'altro. Adesso un fenomeno che sto studiando è un fenomeno in un certo modo assurdo, ma che secondo me evidenzia un altro aspetto interessante di trasformazione, che è quello dei virtual influencers, cioè di influencer che non esistono di fatto, ma sono completamente costruiti a computer. E la cosa che mi interessa, anche questo riguarda la trasformazione antropologica in atto, è il fatto di questo bisogno che le persone stanno sviluppando online di comunicare con il non esistente, che è una cosa che riguarda poi la storia dell'umanità, quello di avere un rapporto con chi non esiste, da pigmaglione in poi, in fondo è tutta una costruzione di esseri, la volontà umana di costruire esseri come noi ma che non esistono. E secondo me l'aspetto affascinante della fase che stiamo vivendo è quella proprio di enfatizzare questa espansione nostra, innanzitutto un'espansione fisica, un'espansione della presenza e dell'identità, ma anche una forma, diciamo, di comunicazione con l'altro, che va oltre all'altro che esiste fisicamente, ma che soddisfa anche delle fantasie legate al non esistente. Quindi se devo guardare l'aspetto appunto che a me intriga è questo costante renderci sempre più complessi e questa capacità di evolverci con maggiori opportunità nelle relazioni interpersonali e nelle creazioni delle nostre fantasie. E riguardo al corpo, la rilevanza del corpo, questo è un mutamento antropologico. Il corpo adesso anche in questo... Non possiamo farne meno. Ammetto che sul corpo, cioè, non mi sono ancora fatto un'idea totalmente chiara della positività o della negatività di questa trasformazione, però innegabilmente oggi soprattutto le nuove generazioni hanno una concezione del corpo molto diversa. Per esempio, a me è piaciuto, ci ritorno spesso anche nei libri, nelle cose che scrivo, che si utilizzino il termine, la metafora, delle carni digitali. Si parla di carne digitale, non corpo digitale. Carne per dare l'idea della visceralità degli investimenti emotivi in quello che viene fatto online. E c'è sempre di più la predisposizione di creare relazioni in cui il corpo, in senso stretto, escluso. Io tengo laboratori qui a Torino di realtà aumentata di culture cyborg, comunicazione e culture di media, e mi è capitato spesso di avere studenti o studentesse che mi sottolinano il fatto di dire ma io ho delle relazioni sessuali con persone con cui non ho mai avuto a che fare fisicamente. E mi chiedono poi anche in maniera magari provocatoria che male c'è o che problema c'è. Quando mi viene fatta questa domanda dico, boh, non so mai dare una risposta, però più che altro vedo in questa cosa anche lì una trasformazione. C'è in corso un rapporto diverso che probabilmente chiama anche in causa la fase storica che stiamo vivendo della fluidità. Io immagino che ci sia un collegamento con questa epoca in cui c'è questa forte esigenza della fluidità, del non riconoscimento di sé con un genere definito e via dicendo. E le tecnologie da questo punto di vista emancipandoci dalla presenza fisica in senso stretto ci permettono di sperimentare. Quindi il corpo non riesco ancora bene a capire se rischia di essere messo da parte, troppo messo da parte, oppure se in realtà rimane ma viene semplicemente ampliato. Su questo io ammetto che lascio un po' aperta la questione perché non ho ancora delle idee così chiare. Però certamente anche lì non è più centrale l'idea che se non c'è il corpo di mezzo allora non faccio esperienza. Questo è certamente un momento storico in cui non necessariamente il corpo svolge un ruolo imprescindibile, soprattutto per generazioni più giovani. Come valutare questo? Secondo te la idea di valutazione positiva o negativa sulla cosa, che sia una cosa buona o cattiva, diciamo così, se ti sei fatto invece un'idea almeno solo su questo, nel senso c'è meno corpo o ne stiamo creando di più di corpo? A me verrebbe da dire che ne stiamo creando di più. Ma stiamo espandendo... Sì, io mi muoverei un po' in quella direzione lì. Anche perché va poi di pari passo con esperimenti sul corpo che ovviamente adesso sono delle novità che ci spaventano in linea generale ma che sono in corso. È sempre maggiore il numero di persone nel mondo che si fanno impiantare dei chip sotto pelle per rendere ancora più immersiva la loro vita in una società iperconnessa. Anche questo è un dato di fatto che ovviamente è normale che ad impatto questa cosa possa spaventare perché inserire una cosa di questo genere sotto pelle è ovvio che può generare come prima reazione la repulsione, ci sta. Però anche questo è significativo di nuovo di un cambiamento. E anche quello è una moltiplicazione di una presenza perché questa cosa fa sì che non ho neanche più bisogno di uno strumento. C'è un'antropologa che cito spesso in inglese che si chiama Amber Case che già qualche anno fa sostenere un TED che è stato molto visualizzato diceva che noi siamo dei cyborg di fatto ogni volta che guardiamo lo schermo del cellulare e ha creato un po' le sue teorie su questo come lo smartphone con un prolungamento fisico. Questo passaggio va ancora oltre perché non c'è neanche più bisogno dello smartphone, sono direttamente collegato con la realtà tecnologica. Mi dà l'idea che poi quindi anche la trasposizione di esperienze fisiche nella dimensione online faccia parte di questo percorso. Probabilmente mi verrebbe anche a me da pensare che è più un potenziamento, un arricchimento, una moltiplicazione dei corpi che un depotenziamento del corpo. Non ci vedrei troppo il fatto della perdita perché poi tanto alla fine noi siamo esseri psicofisici, noi abbiamo un corpo, quindi tanto con questo corpo qualche cosa dobbiamo farne e lo facciamo. Va bene tutto, anche il moltiplicarsi del corpo. Capisco la prospettiva, capisco anche entrambi i punti di vista. Tuttavia com'è possibile allora a quel punto unire la vita nella fisicità, nel mondo reale, con quella virtuale? Entrambe richiedono diverso tempo. Com'è possibile ampliare il corpo nel momento in cui comunque è necessaria una scelta? Vedo difficile mettere dei confini, mettere dei limiti all'uno e all'altro. L'uno ha capito. Per esempio cresce un adolescente tipo che si interfaccia, scostruisce la propria socialità all'interno di un mondo online, quindi prospettive virtuali e tutto quello che abbiamo già detto. Com'è possibile basarsi su questo come moltiplicazione del corpo, tralasciando, che è quello che poi succede, perché non è una paura sterile, sono comunque dati che ci sono stati rispetto a ragazzini che non escono di casa. Quindi com'è possibile godersi, quindi approcciarsi dal punto di vista positivo, da queste innovazioni, senza tuttavia tralasciare tutto il resto? Perché tu dici, il corpo ha le sue, come dire, esigenze, le sue ragioni, e uno deve imparare a gestire, perché la virtuale non conosce. È questo che stai dicendo. Per ottenere questa cosa qua, per risolvere questa situazione, andare a limitare l'aspetto tecnologico, anzi, forse non è tanto quella la via, quanto più cosa non stiamo facendo sull'altro aspetto. Sì, infatti lei dice, ci vuole tempo. Cioè, è assoluto da capire. E quanto tempo dedichiamo a una cosa e quanto tempo all'altra. E quanto al lavoro? No, quello potremmo rilasciare. Niente, è proprio in gioco anche la questione soggettiva, perché mi dovrebbe da pensare, per dire in altre epoche, che questo viene condannato meno perché visto più, in senso viene giudicato meglio, ma ci sono ragazzini o ragazzine che non uscivano dalla propria stanza e passano tutto il giorno a leggere, e non si è mai capito bene perché quella cosa lì va bene. Invece deve dire, se stai sul videogioco, quello non va bene. In fondo anche passare tutto il giorno chiuso in casa a leggere e a costruire la tua vita sulla base delle proiezioni fantasiose che poni nelle cose che leggi, anche quella è una forma di alienazione. E anche da dire questo, che come esseri umani siamo portati alle dipendenze, al fatto che purtroppo il rischio delle dipendenze è dietro l'angolo di qualsiasi tipo. Però possiamo dire che nel sistema educativo la capacità di educare il corpo, di gestire il corpo è assente. Per un bambino dall'età di 5 anni, diciamo, all'età di 18 e recruderlo in un'aula, è appunto di recrere una dimensione corporea di assoluta costruzione fisica, dove può, per mettersi, dico, scoprire l'espressione del proprio corpo e gestirla. Addirittura quando ti dice voglio dare il cesto, tu gli dici, non sei affidabile, e però pretendi che lui gestisca complessità cognitive quando non lo ritieni neanche affidabile. Il corpo è veramente emarginato nell'età proprio della crescita, della scoperta di sé. Più chiaro che poi il bilanciamento verso il virtuale è anche frutto di questa carenza educativa. Il corpo è assolutamente quello che è consumato, interrappresentato e, come dire, diversimbolizzato, quello che rimuovi giustamente e ricompare lì come tua immagine, scusate la parola, ahimè, alienata. E' proprio l'immagine, è proprio l'immagine il corpo che vende bene. Pensi alla storia del pensiero filosofico, in generale, se non voglio banalizzare, però da noi in occidente è basata su un dualismo che valorizza una parte e in qualche modo sminuisce l'altra. Viene sottolineato dagli studiosi di Cartesio che Cartesio è stato banalizzato, però di fatto nella versione ufficiale che si ha di Cartesio c'è l'idea che Cartesio divida nettamente l'anima dal corpo, il corpo è l'aspetto secondario e Platone stesso le dichiarle in buona parte dei dialoghi, il corpo era visto principalmente come la prigione dell'anima. In fondo anche in quello, la nostra cultura è basata su una separazione con tante eccezioni, perché poi il dualismo è stato criticato nel corso dei secoli. Appunto i testi contro il dualismo filosofico hanno attraversato la storia dell'umanità, però di fatto a livello così molto in superficie resta forse l'aspetto che maggiormente caratterizza l'Occidente, questa separazione ed è forse anche questo il motivo per cui questo corpo viene sempre messo in secondo piano e arriviamo poi al punto in cui siamo arrivati. Quindi? Allora, come reagiamo a questo? Io appunto rimango mista, ammetto che secondo me sono molto affascinato nel vedere i progressi. Adesso si parla tantissimo di intelligenza artificiale, chat GPT, le preoccupazioni su questo, invece io sono assolutamente incuriosito nel vedere questo tipo di novità dove ci porteranno e magari ci permetteranno di diventare anche più creativi, perché in fondo se chat GPT diventasse sempre più diffuso e ci permetterebbe di evidenziare quanti testi inutili vengono scritti generalmente che possono essere scritti dall'intelligenza artificiale, magari questo ci spinge ad essere un po' più originali e un po' più personali. Quindi, ammetto che se possiamo, se abbiamo la possibilità in questi anni di vivere e di continuare a vedere quello che succederà, secondo me possiamo affrontare questo percorso con curiosità e non con paura, di far poi valere la curiosità sulla paura. La domanda del dito è una domanda. Quale domanda potremmo farci dopo questa conversazione per proseguire la ricerca? E per pensare qualcosa insieme? Una domanda che possiamo, è un pochino più incentrata solo su un argomento che abbiamo tratto, non su quello generale, però alla fine torna sempre lì. È una domanda su qual è il nostro rapporto con la morte, con le cose che non finiscono mai, con l'archivio delle memorie, cioè queste evoluzioni tecnologiche e la metamorfosi antropologica sta veramente cambiando il nostro rapporto con la nostra finitezza o con il desiderio di non essere finiti. Questo forse è il punto che, secondo me, è il filo rosso del discorso che abbiamo fatto. Il nostro rapporto è il nostro rapporto con il nostro rapporto con il nostro rapporto